vi siamo mancati non vi preoccupate stiamo tornando insieme a canestro sarà con voi tutti giovedì una nuova stagione un nuovo campionato tante partite da vivere e commentare insieme ricordatevi i protagonisti sarete sempre voi da casa con i vostri messaggi e la possibilità di vincere tanti premi mi raccomando vi aspetto non mancate su rossini tv a a a hey what you gonna do what you gonna do